A proposito di eventi tanto attesi per queste festività c'è anche la Befana del Vigile Urbano a Pisa. È una gran bella iniziativa che è ormai diventata una tradizione anche per la nostra città e ogni anno si arricchisce di iniziative sia per quanto riguarda le mostre che per quanto riguarda anche i luoghi che vengono coinvolti. Quest'anno anche il quartiere San Marco San Giusto farà parte di questa straordinaria iniziativa. Sarà inaugurata sabato 9 dicembre alle 18.30 nell'atrio di Palazzo Gambacorti la mostra espositiva dal titolo La Befana del Vigile. Negli anni 50 la mostra sarà visitabile fino a domenica 7 gennaio. Si svolgerà invece sabato 6 gennaio la rievocazione della Befana del Vigile Urbano e del Vespa Club, una tradizione che risale agli anni 50, quando si diffuse l'usanza di recarsi presso le postazioni dei Vigili Urbani per portare loro dei doni. Sì, anche quest'anno riproponiamo la rievocazione della Befana del Vigile Urbano con una mostra espositiva all'interno dell'atrio di Palazzo Gambacorti e la Befana invece che si svolgerà il 6 gennaio. Un evento importante, una tradizione storica che abbiamo voluto preservare e conservare grazie al supporto dell'amministrazione comunale, della Polizia Municipale e dei tanti vespisti e motociclisti che parteciperanno all'evento. E soprattutto l'aspetto della solidarietà. Ecco, è un momento questo che ci permette di stare vicino a chi in questo momento ha bisogno di cure, di attenzioni, ma di sentire anche la nostra vicinanza e che sono i bambini.